sono le tre e ancora niente fantasma a questo punto quasi quasi io vado a letto fa quello che vuoi perché tu non vieni io voglio arrivare fino in fondo io resto per vedere l'indica che va a fondo ok allora resto anche aiuto Grazie a tutti. Grazie a tutti.